Basta ricatti! Basta i contratti! Basta ricatti! Basta i contratti! Basta ricatti, firmate i contratti. Slogan a corredo di un 4 giugno di sciopero per i lavoratori di una quindicina di imprese della ristorazione collettiva, commerciale e del turismo, riunitesi oggi di fronte alla sede pesarese di Confindustria. Contratti scaduti e reclamati da tre anni con l'aggravante che ora le imprese della ristorazione collettiva associate ad Anir e Angem minacciano chi vuole arrivare ad un rinnovo in grado di garantire condizioni salariali dignitose alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. Sindacati che poi sono stati ricevuti da Confindustria per intraprendere un percorso di dignità verso queste categorie lavorative. Le due associazioni hanno deciso di fidare il sindacato che intende portare avanti la contrattazione collettiva. Questi lavoratori e lavoratrici sono senza contratto da più di tre anni con l'inflazione che sta avendo livelli fuori portata. Questi lavoratori sono disagiati perché a volte hanno poche ore, d'estate non lavorano e ovviamente con gli stipendi che sono bassi. Poi ci si lamenta se non si trova forza lavoro. Abbiamo portato all'associazione datoriale i motivi della nostra protesta. Ricordiamo che sono lavoratori poveri, lavoratori degli appalti, lavoratori che hanno un grosso problema di carattere salariale. Confindustria si è fatta carico delle nostre istanze e cercherà di far capire a Danier, associazione datoriale a loro associata, che è possibile, che è doveroso sottoscrivere il contratto. Noi abbiamo fatto presente tutte le criticità di un contratto scaduto da tre anni, di un'associazione che è stata creata ad hoc, che è uscita fuori dalla trattativa nazionale, tanto è vero, lo sciopero era proprio con Anir, Confindustria e Angem, di questo gruppo che è uscito fuori e dove ha raccolto alcune aziende che non vogliono arrivare alla sottoscrizione del contratto. Abbiamo fatto presente che la maggior parte di questi lavoratori sono lavoratori part-time, che fanno il proprio lavoro, il servizio che è utile e sociale, menze, scolastiche, bidelle e quant'altro, e non si può portarle ancora dopo tre anni a non rinnovare il contratto. Va fatto, si sono presi l'impegno di chiamare le associazioni nazionali per arrivare a una conclusione finale del rinnovo del contratto, perché si sono resi benissimo conto che è una realtà che oltre che aiuta nel sociale, è una realtà che non si può tenere ancora per tre anni con un contratto scaduto, sia la parte economica che la parte normativa. Contratto! 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 Contratto!